Un concorso identico a tutti i concorsi universitari. E' tranquillo quindi? Per quanto riguarda la mia coscienza personale, assolutamente sì. Anche perché, signori miei, va bene, non devo e non voglio e non posso entrare nel merito specifico della questione fino a che la questione non è conclusa. Quando sarà conclusa ci andrò. Mi sono comportato così per tutto questo periodo.